Barba adesso in profondità, ci va la Padula sul pallone, riesce a toccare per Moncini, la palla resta lì, la Padula! Non perdona Gianluca la Padula, il suo primo gol in campionato, vale il 2-1 per il Benevento a 21 dal novantesimo. Sull'errore della difesa del Cittadella, la Padula è in agguato e questi gol non li sbaglia. Il Benevento torna in vantaggio con il primo in campionato di Gianluca la Padula. Brutto errore di Benedetti che fa male. Lato curto, cross radente di Elia, palla che passa, la Padula contro le calci! Ancora Gianluca la Padula, implacabile, micidiale dentro l'area di rigore, due palloni, due gol, 3-1 Benevento. Non ci si può concedere errori quando c'è Gianluca la Padula nei 16 metri, altra leggerezza della difesa della Cittadella, un pallone passato per un errore. E la Padula ne approfitta ancora con deviazione, fa 3-1 a 6 e mezzo dalla fine, dal novantesimo. Qui sul cross radente di Elia è ancora Benedetti a sbagliare il controllo. Pita direttamente in area di rigore, colpo di testa di Barba. Arriva per primo Teio, non c'è gioco pericoloso nell'interpretazione dell'arbitro. Allora può andare il Benevento in contropiede, la porta Teio. Sono in quattro quelli del Benevento, l'apertura per Moncini. Al centro la Padula, lo cerca Moncini! E la Padula segna ancora, è addirittura tripletta per Gianluca la Padula. 86esimo minuto, 4-1 per il Benevento. La Padula si è iscritto a questo campionato di Serie B. Tripletta in 45 minuti, è tornato Gianluca la Padula dopo i problemi fisici di questo avvio di stagione.